Ciao Brunella, ciao a tutti. Oggi parliamo di un argomento un po' particolare. Voglio fare una premessa. Tempo fa avevo registrato un video in cui parlavo di senso civico e valore morale. Poi però ho visto, Brunella, un tuo post sulla compassione. Mi è molto piaciuto e a quel punto ho pensato di non pubblicare più quel video che avevo fatto perché lo possiamo integrare in una nostra discussione in maniera più adeguata e articolata. In quel post tu parlavi appunto di compassione e mi è venuta anche un po' una curiosità, nel senso qual è la vera definizione di questa parola? Noi molto spesso utilizziamo la parola compassione con un significato tipo aver pietà di eh mentre in realtà ecco mi fa pena mentre in realtà ha un significato può avere anche un significato molto molto più più importante eh ecco per esempio eh dacci una bella definizione di compassione di una bella definizione come sai fare tu. Grazie. Ciao a tutti, ciao Francesco. Molto facile. Allora il termine compassione significa soffrire insieme, sentire il dolore insieme e insieme cercare di alleviarlo. Significa donare gioia e togliere la sofferenza. Significa nel nostro profondo sentire la voglia di aiutare gli altri. Questo termine è molto eh connesso all'amore universale, non ad un amore romantico. Noi siamo abituati a questo amore soggettivo, a questo amore romantico, ci viene in mente il cuoricino. Insomma mi viene in mente Paola, Paolo e Francesco, Tristano Isotta, è presente, ecco quel cuoricino, no? Ma è un amore ehm come dire universale ehm un amore infanzitale. Fine a se stesso. Fine a se stesso è un significato più ontologico per cui è una cosa che sentiamo nel profondo del nostro animo ed è una cosa che i bambini hanno hanno perché noi animali sono perché sono soggetti puri. Noi nasciamo come siamo animali sociali che nasciamo con una natura compassionevole innata. Però ecco il problema è che poi questa società eh invece ci insegna a cercare la felicità nella solitudine perché per esempio eh in passato felicità significava stare con amici e parenti eh significava eh andare fuori e vivere vivere insieme fuori. Oggi oggi mi sa che la felicità invece è star da soli a con il nostro telefono eh e degli altri chi chi se ne frega ecco eh eh c'è un po' questa cosa ad esempio questa cosa che dici mi ha acceso un pochino una lampadina mh in merito al mio lavoro nel senso che mh quello che i nostri genitori ci hanno insegnato la semplice frase che continuano a ripeterci negli anni se dovessi chiederlo a ognuno di noi eh esprime proprio questo concetto nel senso che mi viene in mente che ci sono ho avuto delle persone dove magari la frase era guarda l'importante è stare bene bene noi chiusa la porta siamo bene noi in casa no? Cioè mi ha ricordato proprio questo questo concetto qua eh e invece no no nel senso che la vera felicità è stare con gli altri la vera felicità è un incremento della è una somma della felicità nostra con la felicità dell'altro. Eh la la solita frase scontata è è più bello è più bello dare o ricevere? Eh ecco forse è più bello condividere. No è più bello condividere. Insomma è una questione enigmata. No è condividere. È più bello condividere. Bravissimo è più bello condividere. Cioè avere quello che si ha lo si condivide con gli altri. Ecco qui faccio un'altra osservazione. Per esempio io sulla mia pelle posso dirti che sto eh tastando proprio con con mano l'assenza di altruismo da parte di molte persone. Eh non so se sono tante perché poi alla fine non riesco a quantificarle ma dai commenti che ricevo dalle osservazioni che che molti mi fanno eh praticamente niente noto eh un egoismo esasperato è la totale eh mancanza di eh altruismo per la serie. Io penso al mio bene e degli altri chi se ne frega. Ti faccio un esempio. Quando io dico che eh la vaccinazione eh è una profilassi di comunità che eh sì serve ovviamente per il bene nostro perché ci protegge ma soprattutto serve per il bene della comunità quindi dobbiamo accettarne gli effetti collaterali. Apriti cielo. Apriti cielo. Questa cosa è una roba che non si può dire tu sei un pazzo ma che cosa stai dicendo eccetera. Oppure un altro esempio quando un'altra cosa per esempio che è veramente eh complicata da accettare per molti è la storia della mascherina che la mascherina chirurgica non serve per proteggere noi stessi serve per proteggere gli altri questa cosa da molti è inaccettabile perché perché degli altri chi se ne frega però non ci si rende conto che vivendo all'interno di una comunità se noi facciamo il bene della comunità eh automaticamente il bene ci ritorna esatto l'esempio l'esempio che faccio sempre io sì è vero la mascherina protegge gli altri e non direttamente me stesso ma se tutti indossiamo la mascherina tutti ci proteggiamo da tutti se tutti ci vacciniamo tutti ci proteggiamo da tutti è molto più complesso ma è molto più vero siamo una catena inscindibile in questo momento e non c'è niente da fare purtroppo ci sono tanti egoisti che però rappresentano gli anelli deboli di questa catena ecco certo io condivido questa cosa perché è capitato anche molte volte sulla mia pagina quindi condivido esattamente questa cosa qua ma bisogna far comprendere alle persone che hanno perso diciamo questa via più saggia che comunque va a riguardare tutti che esistono delle strade migliori no per per avere una vera felicità per essere felici e per avere maggiore equilibrio esistono della delle strade migliori eh purtroppo si è arrivati anche a questo punto cioè a pensare che comunque io penso al mio orticello e che se ne fai al resto no e quindi come se fosse l'unica via eh l'egoismo ma non solo anche la ricerca della comodità a tutti i costi no io ho scritto questa cosa c'è la ricerca della comodità a tutti i costi porta anche a confondere l'idea del diritto alla libertà anche questo no cioè nel senso io sono libero ma insomma il concetto di libertà deve coinvolgere anche gli altri non è un concetto singolo c'è il concetto di la libertà la libertà mia eh finisce nel momento in cui la mia libertà crea crea un danno agli altri ehm esatto allora fatta questa linea di confine esatto guarda francesco a proposito di di tutto questo discorso sulla compassione sull'amore vorrei citare un uno studio che è stato menzionato nella questa rivista che le scienze di cui abbiamo già parlato proprio di questo mese si vede sì 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 ok uno studio molto carino dove si parla di come affrontare lo stress da pandemia ok allora in questo allora in questo studio no è carino perché allora in questo studio i maggiori esperti mondiali sulle catastrofi hanno analizzato il disagio psicologico degli individui in seguito all'undici settembre e hanno visto che hanno visto che le persone affrontano meglio queste problematiche psicologiche stando vicino ad amici e familiari allora noi ci chiediamo ma in una situazione pandemica l'esigenza di stare al sicuro ci ha tolto questa possibilità di stare vicino agli altri fisicamente agli altri intesi come amici parenti insomma le persone importanti anche stare in una piazza in mezzo all'altra gente ecco anche sì sì la voglia sai quella voglia di incontrare le persone no in questo momento invece quando incontriamo qualcuno già siamo un pochino agitati no ci viene cioè ci è tolta un po questa 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 voglia di questo desiderio di incontrare gli altri di collettività e quindi c'è stata tolta uno degli elementi fondamentali per stare meglio dobbiamo rinunciare proprio a questa cosa qua ma è anche vero che la letteratura ha dimostrato in uno studio che dedicarsi a delle cause importanti come ad esempio in questo momento appunto il benessere delle persone la compassione l'amore la pace universale dedicarsi a queste cose stando stando se ne comunque a casa propria aumenta è in grado è un è un elemento che è in grado di migliorare la salute emotiva delle persone penso un po c'è uno studio che mi è piaciuto tantissimo perché è uno studio proprio comunque comprovato no e della della compassione si diceva proprio che in uno studio del 2007 fatto dal neuropsicologo william va bene sono sto parire lo è analizzato ha fatto diverse ricerche sui bisogni principali che si possono provare di durante un disastro gli scienziati hanno riferito che i primi cinque sono sentirsi sicuri tranquilli auto efficaci avere legami sociali speranze chi si dedica ad attività che aiutano gli altri può soddisfare tra di questi bisogni sentirsi più utile collegato speranoso per il futuro e stare meglio da un punto di vista emotivo quindi c'è questo studio molto molto bello in questo senso quindi anche a casa noi dedicandoci agli altri o comunque facendo delle cose per gli altri possiamo stare meglio francesco direi che noi ne siamo la prova no ci proviamo ci proviamo a sperimentare questa allora il problema è questo che secondo me per fare questa cosa molto complicata bisogna essere predisposti bisogna avere uno stato d'animo predisposto e secondo me non tutti e lo so per concludere voglio lanciare un appello voglio voglio dire una cosa che poi ovviamente sì mi esporrà critiche bestiali ma quello che voglio dire appunto è che dobbiamo essere più altruisti che il bene della comunità è decisamente superiore rispetto al bene del singolo voglio dire il bene di in zirillo o di vanotti è secondario rispetto al bene della comunità in cui in zirillo e vanotti si trovano e questo lo si deve accettare perché 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 è una verità assoluta e perché non può essere altrimenti perché se il bene del del singolo fosse più importante rispetto a quella della società la società sarebbe già distrutta da da un bel pezzo io sottoscrivo con passione con passione noi cerchiamo con passione cerchiamo comunque di diffondere il più possibile questa cosa io adesso io adesso ho paura Brunella io adesso ho paura ho paura allora è arrivato il momento è arrivato il momento delle tue frasi ah penso che hai paura dei commenti su quello che mi piace no no quelli tanto li cancello i commenti volgari tanto li cancello li blocco è un continuo allora ah stavolta sono due perché l'altra volta mamma mia allora una dedicata ai bambini eccola qua storia di una balena bianca raccontata dalla da lei stessa eh beh insomma ricordiamo anche l'autore che è morto di covid ricordiamoci che abbiamo perso una persona importantissima allora la balena dice cioè togliamoci dalla degli uomini raccontiamo che c'è la balena la balena non aveva mai visto gli uomini a un certo punto nel mare dice mi sembra molto strano il comportamento degli uomini in questo loro incontro in mare la minuscola sardina non attacca un'altra sardina la lenta tartaruga non attacca un'altra tartaruga il vorace pesce cane non attacca un altro pesce cane a quanto pare gli uomini sono l'unica specie che attacca i propri simili e non mi piacque questa cosa che imparai da loro non so se è una verità sì non so se è una verità assoluta però gli uomini sono gli unici che si fanno le guerre sistematiche da quando da quando esistono molto molto carina questa mentre l'altra frase è una frase che ha scritto un mio amico medico che come dice lui mi ha visto nascere se dico di berbenno tutti sanno a chi mi sto riferendo che è una persona eccezionale una di quelle persone che hanno quella cosa in più e quindi questa questa quella compassione come dice che non hanno tutti lui ha scritto questa frase in un'occasione speciale ed è questa la neurobiologia studia il funzionamento del cervello ma non indovina i pensieri dell'uomo la contrazione dei muscoli di un volto può essere osservata e studiata in ogni minimo dettaglio ma non può spiegare il senso di un sorriso a riprova che fortunatamente il mistero rimane inabitato questa è veramente bella bellissima cioè io quando l'ho letto cioè i brividi quando la leggo bellissima mi piace tantissimo quindi vedi cioè si vuole il bene si vuole la compassione si crede alla scienza perché è giusto è giusto è comprovato ma c'è l'amore del mistero rimane perché noi siamo molto di più c'è la complessità della vita la vita è complessa c'è scritto in un altro post ok con questa basta sono una donna mi sono emozionata basta però non hai più definita o con questa mielosità chiudiamo questo video dai ciao va bene ciao a tutti ciao 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 a tutti